Ad Angrigento domani venerdì 27 aprile all'hotel Chaos dalle ore 9.30 in poi Confcommercio e Fipe Sib, sindacato italiano balneari ed esperti del settore hanno organizzato un convegno sul tema la gestione del demanio marittimo tra imprenditorie e tutela dell'ambiente. Si tratta di un'occasione di approfondimento e di confronto su diversi aspetti che interessano i concessionari del demanio marittimo tra adempimenti, imposte e tributi. E poi saranno coinvolti anche i comuni preposti alla redazione dei PUDM i piani di utilizzo del demanio marittimo. Le interviste. Ad Angrigento domani mattina all'hotel Chaos dalle ore 9.30 in poi si discute di gestione del demanio marittimo soprattutto per gli utenti del settore, i titolari di concessioni balneari ad esempio. Il presidente provinciale di Confcommercio di agrigento Francesco Piccarella. Sì, facciamo il punto domani mattina con questo convegno organizzato dalla Confcommercio in collaborazione appunto con l'ordine degli architetti con cui facciamo il punto della situazione di quella che è la situazione del demanio marittimo soprattutto nella nostra regione quindi regione Sicilia che è circondata appunto dal mare quindi concessioni demaniali ce ne sono e ce ne sono tante concessioni dove naturalmente ci sono imprese, imprenditori che hanno investito su questa tipologia di imprese. Proprio qualche giorno fa ad esempio il Bolkestein ha dato una sorta di via libera a quelle che sono le concessioni appunto degli stabilimenti balneari e proveremo a fare appunto il punto normativo e della gestione del territorio con gli imprenditori ma soprattutto anche con gli uffici preposti. Gli ordini professionali partecipano all'iniziativa. Il vicepresidente dell'ordine provinciale degli architetti di agrigento Giuseppe Grimaldi. Sì, noi partecipiamo perché già l'atto del nostro insediamento in questa legislatura è una delle cose che abbiamo fatto appunto una commissione sui piani di utilizzo del demanio marittimo. Poco fa il presidente parlava della normativa noi abbiamo provato a racchiudere in una scheda la normativa attualmente vigente sull'utilizzo del demanio e in tre pagine non ci stava. C'è tantissima confusione, c'è moltissimo ritardo. Infatti da questo punto di vista dobbiamo dire che noi ci interessa particolarmente il discorso sulla pianificazione perché la pianificazione delle coste marine esattamente come la pianificazione delle città, dei municipi, in Sicilia si parla di ritardi mostruosi. Per cui ben vengano queste iniziative organizzate dal Commercio, noi saremo sempre presenti quando si parla di pianificazione e a maggior ragione del demanio marittimo.